Centro Revisione Carrozzeria Fratelli Faraci Vieni a trovarci nelle nostre sedi equipaggiate di attrezzature all'avanguardia per tutelare il tuo veicolo e garantire la tua sicurezza stradale con impianto frenante a piattaforma di ultimissima generazione Offriamo un servizio di riparazione interna ed esterna per ogni tipo di veicolo Interventi strutturali o superficiali, grandi e piccole ammaccature, graffi e altri inconvenienti alla carrozzeria del tuo veicolo necessitano di un intervento mirato a cura di un personale altamente qualificato con risultati impeccabili Fari ingialliti? Non preoccuparti, siamo specializzati anche nella rigenerazione fari donandogli splendore e brillantezza con prodotti innovativi Ci trovi a San Cataldo, nella nostra sede principale in Contrada Babba Urra alle spalle della Chiesa Santa Maria di Nazareth e nella nostra succursale in Via Garibaldi